Intanto è abbastanza così, è surreale pensare che si ragiona così, il 73% degli italiani vuole la pace e Putin ha fatto la guerra, però ha vinto Putin, le cose non stanno in piedi, oggettivamente se riportiamo al punto di partenza Putin ha immaginato che questa fosse una passeggiata, ha immaginato che ci fosse la replica della Georgia, ha immaginato che sui suoi carri armati sarebbero stati distribuiti fiori e rose, che non ci sarebbe stata nessuna resistenza perché il popolo ucraino ha una forte consuetudine con i russi e quindi che tutto sarebbe finito rapidamente, che l'Europa si sarebbe spaccata, poiché Putin ha vantato nel tempo molte amicizie in Europa e anche in Italia, ho visto che gli amici in Italia di Putin sono spariti, ma sono spariti forse anche in altri paesi europei e sì che ne ha avuto, sì certamente, qualcuno c'è, qualcuno si nasconde perché si vergogna, però dire che questo è il successo di Putin, io penso che quello che sta avvenendo in queste ore è una svolta, ma è una svolta dettata da quello che è avvenuto sul campo, perché si dipendeva da Putin avrebbe raso al suolo tutto quello che gli era possibile radere al suolo, solo che le sanzioni da un lato e dall'altro il fatto, il discredito internazionale lo ha messo in una condizione drammatica e deve ragionare anche lui rispetto ai suoi equilibri interni, questa è la mia sintesi. Grazie Rostro Grimaldi, perdonatemi, arriviamo a Marino